venerdì 6 agosto 2021 siamo nel teatro del veritas orione di selargeus si scrive la parola fine sulla lega dei campioni over 50 prima edizione genuis 50 contro la scicheria il genuis dopo aver sorpreso in semifinale vuole continuare a sorprendere ma la scicheria è la grande favorita siamo pronti partiamo genuis 50 contro la scicheria finale di lega dei campioni over 50 squadre in campo in attesa dei classici inconvenievoli intanto genuis in maglia blu scura la scicheria in maglia bianco celeste allora subito le formazioni nel frattempo si sta passando al sorteggio tra i due capitani il genuis 50 è sorteggiato questa sera in casa schiera tra i pali valentino campagnola poi la linea difensiva è composta da stefano pacci gianfranco melis davide pizzano maurizio rossi e francesco lecci a centrocampo assente stefano corso ci sono giacinto daniello vittorio moscapelli in attacco assente carlo perdici ci sono invece alessandro bosco e patron oscar garbati dalla parte opposta la scicheria questa sera si presenta senza i due portieri carmine scalas e stefano serra tra i pali c'è ivan ledda che fa il difensore poi in difesa ci sono gigi fanari e giuseppe mazza centrocampo piero francesco belfiori il presidente della squadra federico locci e aldo piras assente paolo simbola presente andrea nedda in attacco pier paolo piras sono le 21 18 sta per avere inizio la finale della lega dei campioni over 50 ed eccolo qui 21 18 iniziata la partita buon divertimento attenzione potrebbe esserci una palla gol per la scicheria con belfiori che però non buon controllo e poi campagnolo che ci prova da fuori rischiando subito di far male a nedda è pronto a battere la rimessa laterale sulla sinistra corda per paolo piras quindi attenzione ancora la scicheria in avanti con federico locci grande protagonista delle semifinali federico locci non è poi per la conclusione dalla distanza di ciccio belfiori pallone che termina alto sopra l'incrocio destro campagnola pronto a rilanciare lungo con la mano va a cercare un compagno in realtà trova direttamente ciccio belfiori calcio campanile poi aldo piras direttamente per il proprio portiere che ricordo questa sera ivan ledda campagnolo mamma mia che errore di campagnola la scicheria è in vantaggio incredibile al quarto minuto di gioco mi pare che abbia segnato direttamente in all'edda sì perché stanno andando a festeggiare con lui per cui genuis 50 0 la scicheria 1 al quinto minuto di gioco ha segnato direttamente dalla propria porta ivan ledda incredibile campagnola che adesso prova a riforsi e ci riesce e ci riesce genuis 1 la scicheria 1 nel giro di pochissimi secondi incredibile prima campagnola combina la frittata e poi si fa perdonare con una conclusione deviata sotto l'incrocio del pali sinistro paolo piras poi sbaglia tutto la regala a pace attenzione garbati c'è il portiere fuori dai pali la rete la rete del genuis ma cosa stava facendo ivan ledda oscar garbati al settimo minuto di gioco il genuis la ribaltata genuis 52 la scicheria 1 arrabbiatissimo aldo piras col proprio portiere arrabbiatissimo e questa volta ne ha ben onde ai so federico ledda che la prova dalla distanza campagnola rischia ancora grossissimo calcio d'angolo pronto aldo piras a toccare corto per anedda mi pare anzi no in realtà la palla arriva dall'altra parte sulla destra per belfiori da prova la conclusione deviata all'ultimo locci quindi aldo piras sulla destra murato a due versari e poi attenzione e c'è c'è calcio di rigore probabilmente c'è calcio di rigore probabilmente per la scicheria per un fallo abbastanza evidente da parte di stefano pacci federico locci contro valentino campagnola miglior giocatore contro miglior contro uno dei migliori portieri ma col destro locci campagnola si rimane sul 2 a 1 incredibile campagnola mancino palla che sfiora l'esterno della rete ivan ledda fermo impalato in porta due al termine del primo mentre attenzione campagnola e poi piras piras che è stato sfortunato nel ripallo calcio e punizione affidato a uno tra aldo piras e federico locci attenzione potrebbe essere anche uno schema perché qui a due passi da noi praticamente c'è c'è ciccio belfiori attenzione locci garbati garbati alla brozovic adesso federico locci corsia di sinistra prova ad accentrarsi e ci riesce poi la palla e per andrea ne è da limite l'area di vigore aspetta belfiori belfiori che conclude la rete la rete del pareggio della sciccheria quando siamo ormai alla fine del primo tempo anedda bravissimo qui al limite destro ad aspettare il compagno che col destro ha concluso sorprendendo campagnola con con una conclusione abbastanza centrale che si è insaccata tra le gambe del portiere qui non mi sento sinceramente di dare grosse colpe a valentino campagnola che adesso vuole la doppietta personale ci riproverà da centrocampo eccolo qui in campagnola murato stavolta ed eccolo qui ed eccolo qui il duplice fischio dei due direttori di gara che mandano le due formazioni al riposo per cui riepilogo i marcatori al quinto il vantaggio di leda poi al sesto campagnola al settimo garbati al ventiquattresimo il pareggio di belfiori per la scicheria si va a riposo sul 2 a 2 parità non bellissima ma che le due squadre si stanno giocando al pieno delle potenzialità situazione di 2 a 2 per cui in questo momento eccolo qui attenzione intanto e siamo ripresi alle 21 50 campagnola murato tra l'altro belfiori ci ha messo la pancia insomma non è non deve essere stato molto piacevole per quello che in questo momento è l'autore del gol che darebbe alla scicheria la possibilità di andare a giocarsi dai calci di rigore eccolo qui belfiori va a provare a servire e polo pilas limite destro dell'area di rigore conclusione o meglio assist tentativo di assist murato da francesco lecci quindi rimessa laterale in zona d'attacco anzi no è un calcio d'angolo in zona d'attacco per la scicheria con polo pilas che la prova direttamente salva sul palo gianfranco melis è partita meglio è partita meglio la scicheria eccolo qui stefano paci il 3 a 2 del genuis 50 con un grandissimo gol in torsione da parte di oscar garbati al terzo minuto del secondo tempo lancio dalla sinistra di paci direttamente in area di rigore per oscar garbati che in avvitamento la messa sotto la traversa rimessa laterale favore della scicheria nella gioca nel mezzo attenzione bella questa giocata polo pilas libera il doppio smurato murato non è ancora finita loci limita l'area di rigore prova entrare in area ci riesce palla sul fondo di un niente vicinissimo al pareggio il team ospite il team della scicheria ora loci potrebbe anche provare il destro invece preferisce il passaggio beneficio di polo pilas poi di nuovo loci era di rigore campagnola lavora federico luci ecco qui il risveglio dal bomber federico luci il 3 a 3 ottima qui l'intesa tra federico luci e polo pilas dai e vai federico luci conclude verso l'angolo destro campagnola la respinge un po così la palla rimane lì ancora federico luci destro sassata centrale 3 a 3 al decimo minuto del secondo tempo ledda lancio lungo a cercare paolo pilas ben controllato poi la palla per aldo pilas e campagnola riesce a respingere il mancino da due passi di aldo pilas calcio e punizione dalla distanza a favore del la scicheria va a federico luci o meglio dovrebbe andare federico luci col destro sul punto di battuta c'è anche aldo pilas anche lui un destro e un po due uomini piazzati in barriera sono giacinto daniello e alessandro bosco se non vedo male luci campagnola ancora luci col destro di controbalzo la palla passa calcio d'angolo ultimo tocco è stato di stefano paci angolo che sarà battuto alla sinistra da andrea nedda col mancino la tocca corda per paolo pilas 1 2 tra i due giocatori a nedda siamo limite l'area di rigore preferisce il passaggio corto beneficio di federico luci poi ancora andrea nedda nuovamente federico luci centralmente la palla per aldo pilas che prova campagnola campagnola in allungo la sua sinistra la mette in fallo laterale torna torna ad assediare l'area di rigore la scicheria a nedda la palla è per aldo pilas quindi federico luci adesso gigi fanari la palla mezzo nel mezzo bel fiori solissimo murato murato da stefano paci non è finita poi la conclusione dalla destra da parte di aldo pilas con pallone che è terminato direttamente fallo la tre nel frattempo pausa per noi bel fiori la palla per aldo pilas rimessa laterale battuta ancora aldo pilas prova la conclusione campagnola la respinge con la gamba destra se non ho visto male rimessa laterale battuta attenzione la palla per bel fiori limite l'area mancino alto di niente deviato da campagnola calcio d'angolo per la scicheria tanto garbati non mola bel fiori lo mola adesso attenzione bel fiori già limite la conclusione col destro palla che passa un niente a un niente dal palo sinistro quando siamo al ventunesimo campagnola attenzione la palla per garbati che ci ha riprovato ci ha riprovato proprio come prima la scheggiata anticipando fanari palla un niente a un niente dal palo sinistro andrà loci destro la rete la scicheria in vantaggio la deviazione decisiva di andrea neda male qui campagnola che ha provato ad arrivare sul destro di federico loci non c'è riuscito oscar garbati qui sta provando a chiarirsi con tant'è 4 a 3 per la scicheria al ventesimo pallone allontanato poi paolo piras limite sinistro la meta del mezzo morbido loci se la divora loci se la divora calcio di punizione affidato al destro al mancino bisognerà un attimino vedere come andrà al mancino di campagnola il mancino di campagnola la rete del 4 a 4 al ventitresimo incredibile un capolavoro un capolavoro di campagnola nel frattempo ivan ledda sta abbandonando il capo due minuti alla fine e a questo punto il rischio di calcio di rigore è estremamente concreto attenzione perché potrebbe anche essere anche essere uno schema loci col destro attenzione campagnola cosa ha tolto campagnola cosa ha tolto violentissimo destro di loci e campagnola la sua destra che adesso viene abbracciato letteralmente abbracciato da alessandro bosco e da gianfranco melis si va dunque i calci di rigore per la seconda finale consecutiva genuis 50 la scicheria se la giocheranno in questo modo nel frattempo cosa sta succedendo cosa sta succedendo andrea nedda che litiga con garbati cosa succede cosa succede nel frattempo io vi riepilogo vi riepilogo gli autori dei gol al quinto minuto ledda per l'uno a zero la scicheria poi il pareggio di campagnola al settimo garbati 2 a 1 genuis 50 poi bel fiori per il 2 a 2 garbati al 28esimo per il 3 a 2 federico locci per il 3 a 3 e poi insomma il resto è sostanzialmente storia perché c'è stato il 4 a 3 e il 4 a 4 di cui il pareggio di valentino campagnola il gol del 4 a 3 che era stato segnato da andrea neda intanto un attimo un attimo di pausa e poi ci risentiamo per i calci di rigore siamo ai calci di rigore la prima a battere sarà la squadra della scicheria con per paolo pira se non ho visto male si andrà col destro eccola qui la conclusione spiazzato valentino campagnola 1 a 0 per la scicheria bel gesto adesso tra pier paolo pira se valentino campagnola adesso tocca ad alessandro bosco contro paolo pires bosco col destro anche lui spiazzato spiazzato nettamente pier paolo pira su 1 a 11 tocca adesso ad aldo pira scontro valentino campagnola secondo rigore per il genere per la scicheria siamo 1 1 eccolo qui aldo pira campagnola campagnola vola la sua vola la sua sinistra si rimane 1 a 1 tocca adesso a stefano numero 11 del genuissimi sfuccio il cognome sinceramente do parte col destro palla che tocca il palo interno sinistro e si infila il giro di 50 e in vantaggio 2 1 stefano paci eccomi usciva stefano piso non capisco perché tocca adesso a federico luci anche lui col destro tutti col destro riguardi stessa sera a lui traversa traversa interna attenzione ora valentino campagnola ecco qui un mancino dopo tanti destri ecco mancino a lui alto alto spreca il genuis 50 la palla del 3 a 1 con l'uomo da qui non ci aspettavamo effettivamente questo errore adesso a parlare con ammirevole non sappiamo di cosa si rimane quindi sul 2 a 1 al quarto rigore se non ricordo male belfiori col destro campagnola campagnola si rifà subito si rifà subito si rifà subito si tuffa alla sua destra giunfranco meli secco un altro mancino va lui la rete la rete il genuis 50 è campione della lega dei campioni over 50 edizione 2021 adesso la festa sotto la nostra postazione dei giocatori del genuis 50 che partivano sfavoriti va detto lo ribadisco prima di questa finalissima partivano sfavoriti anche prima della semifinale è stata la cenerentola questo genuis 50 con oscar garbati il presidente oscar garbati che si rifà che che si rifà dopo che si rifà dopo la sconfitta della serie c della passata edizione per cui genuis 50 batte la scicheria dopo i calci di rigore dopo una partita stellare io vi ricordo che voi ci ritroverete martedì lunedì pardon per la per le finali in programma per l'appunto lunedì vedrete poi le locandine su instagram io vi saluto ricordandovi che il genuis 50 battuto la scicheria e si è laureato campione della lega dei campioni over 50 edizione 2021 in compagnia di oscar garbati nel post parita della finale della lega dei campioni over 50 con tutto il genuis 50 in festa allora oscar la prima cosa che ho detto nel finale nel preambolo finale è stata è un riscatto per la sconfitta nella serie c dell'anno scorso esattamente quella ci brucia ancora un po perché più che altro non per il valore che abbiamo noi in campo ma più che altro perché non abbiamo proprio giocato con la partita allora si veniamo oggi abbiamo riscattato abbiamo anche giocato veramente bene secondo me loro chiaramente avevamo una superiorità tecnica però noi abbiamo giocato proprio da squadra ed è quella che ci ha contraddistinto in tutto questo campionato mi sa che abbiamo siamo andati avanti solo così e quindi un ringraziamento particolare va a tutti loro al mio mister che ci hanno creduto ci abbiamo creduto fortemente insomma quanto diventa importante questo successo a moralmente parlando a 48 ore dalla finale over 35 perché adesso l'appetito vi è mangiando ma certo adesso ancora meglio non bisogna certo andare con i bassi perché se poi vai così rischi di essere fregato subito e fai la fine dell'anno scorso ecco invece dobbiamo andare sempre con questa umiltà sempre giocando di squadra come abbiamo fatto oggi più o meno siamo quelli di oggi vediamo un pochettino che ci porti bene il nostro campagnolo senti io ti ho visto spesso con questa domanda chiudiamo giocare praticamente faccia alla porta oggi invece hai fatto l'esatto contrario ho giocato spalle alla porta era una cosa studiata e il gol di testa perché tra l'altro spettacolare bellissimo complimenti grazie mille se ne faccio diversi così comunque fa se ne ho fatto anche dire anche qualcun altro non è la prima volta valentino sa dove mi metto io so dove pira la palla valentino e quindi diciamo che è quasi studiato infatti ne ho sfidato anche un altro dai dai andata banca molto bene mi è piaciuta dai grazie mille oscar e ancora complimenti per la vittoria del campionato grazie mille grazie con paolo piras nel post partita di genuis 50 alla scicheria allora paolo per analizzare una sconfitta che sicuramente brucia ma quello che è sembrato a me da bordo campo e che voi abbiate subito e non poco oltre ovviamente l'assenza del portiere che è abbastanza scontato subire ma soprattutto la insomma federico loci non era quello di venerdì scorso va beh i meriti sono anche della squadra avversaria hanno saputo ottenere bene le due le due basi della scicheria quindi andavano raddoppiavano su dipensa raddoppiavano su federico però la cosa più non possiamo arrivare a fare una finale senza portiere altra cosa importante che questo sport è sempre bello e speriamo che continui e che non ci fermino più ce l'auguriamo veramente tutti paolo allora se dovessi rigiocare una parte della parità quale rigiocheresti ma di oggi va bella per noi la parità l'abbiamo giocata bene perché abbiamo fatto quattro gol abbiamo fatti con azioni sviluppate con passaggi con loro hanno fatto mi sa tre gol da metà con uno della linea uno della linea del calcio d'angolo quindi senza portiere non si può giocare quindi a tuo avviso è questo stato il segreto della della vostra sconfitta perché poi partivate favoriti però poi il campo a parlare vabbè potevamo fare di più sicuramente avendo qualche cambio in più io non stavo bene ero mezzo zoppo federico non stava bene però poi alla fine quello che era importante era divertirsi io anche oggi mi sono divertito grazie mille paolo tra poco per le premiazioni grazie